20 aprile 2014, Rione Palazzi, campione! Palazzi non vi sento! Palazzi non vi sento! Alla notte di Natale, non gli stai voce. Giuliani, è qua, dai! La foto, la foto! Considerazioni post vittoria. Saaaaaaaaaaaaaa! Di poche parole. Proprio entusiasmo alle stelle, non è una piccola! È vero che... Se non c'è un frate lei cosa ne pensa? Questa vittoria ce l'avevamo già due anni fa, anzi tre anni fa! E io adesso non fa niente! Forza Palazzi! Antonella? È un video, vai! Dario Gay! Anzi! Anzi! Aspetta! Silenzio, silenzio! Viva l'esercito Emanuele! Eccolo! Aspetta! Paporione... Stai fare prima la prima intervista a caldo proprio! Vai! Aspetta! Invenzione del momento! C'è caldo che stiamo bagnando! Oh! Due parole, dai! Due parole, dai! Due parole! E' un video in cerchio Giulia devi parlare Discorso! 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 Bello la trombetta I ragazzi hanno giocato bene, dai Allora, a me e Daniela Ti interessava sì vincere però relativamente perché A un certo punto ci siamo guardate perché tutti i ragazzi, tutti voi ci guardavate e noi non sapevamo Io ero sicuro Per cui il ragazzo d'Italia la vendiamo a voi perché sono tre anni che ci date una mano grandissima e ve lo meritavate da morire Non succede! Ma è successo! Giuramento! Giuramento! Il anno non lo vendiamo domani dai Giulia! Signor D'Antona Capri Patti Singa Long Capri One Buonasera, buonanotte, buongiorno Due parole della vittoria, vai! La dedicataria Hai visto una fianca di dedicataria? Io vorrei ringraziare tutti i palazzi che hanno contribuito con la Juventus Perché la Juventus è una società davvero Agbiazzante E' agghiazzante quello che fanno Eeeh! Ehi guarda lo pubblico eh Ibra, ibra Ibra, ibra, ibra Signore Catanese dica No, no Vabbè lui mi ha intervistato, ci trovo. Penso che questa vittoria noi dovremmo tutti quanti ringraziare Giulia che ha fatto... Io so bene come sputarmi in viso. Grazie, so bene di preciso come sputarmi in viso. Questi ragazzi allegri. Penso che questi palazzi dovrebbero vincere ogni anno. Voglio avere i rioni perché se lo vengono sono un gruppo di Forza Italia. Sentite, Valerio è venuto a fare il pagliaccio no?